Musica Benvenuti a Chianciano Terme, luogo di cura e di relax, ma anche delizioso antico borgo tutto da scoprire. Le prime documentazioni scritte sulla cittadina risalgono al XII secolo e nel 1167 il console di Orvieto, Tancredi Manenti, parla di se stesso come il conte di Chianciano e nel 1230 la città venne definita comune. Alla fine del XII secolo si cominciarono ad intuire le possibilità derivanti dallo sfruttamento delle acque e furono edificati i primi stabilimenti termali. La storia di Chianciano dall'Ottocento in poi sarà strettamente connessa con la vicenda delle Terme e con la loro gestione. Chianciano Terme si pone oggi fra le più importanti stazioni termali d'Europa, con le sue acque, i grandi parchi, le moderne attrezzature e i confortevoli alberghi. Chianciano Terme, il trionfo dello star bene fra salute e bellezza. Chianciano Terme, Italia e video.